Sì. Il bambino Hannibal è morto nella neve. È cresciuto in un riformatorio. Fa sentire la tua voce, piccolo padrone. Quello che è ora non si può definire. Ha delle informazioni che la incolpano della morte di Paul Momin? Che mi incolpano? Li ho trovati, gli assassini della mia sorellina. Era nella foresta dove è morta la sua famiglia. La sua faccia è stata mangiata. E la sua famiglia, ispettore, è stata uccisa durante la guerra? Sì. Ha preso i colpevoli? No. Allora siamo entrambi dei sospetti. Ispettore, ci sta rintracciando uno per uno. Finirà sulla ghigliottina. Fermati adesso. Mai. Buonasera, ispettore.